Il commento è sul mercato Questo è il mercato, ma ci facciamo un giretto Però non vi potevo non far vedere la cosa che sto a mangiare Che è una cosa da proprio Da vari intensi proprio Tipo una cosa alle amarene Wow Ora scendiamo verso il basso Wow Peccato che stia finendo Ultimo c'è uno di Belgrado Adesso ne va a fare il biglietto Mmm Porco se è un codice d'oltre a buono La cosa particolare di questo mercato È che nella stessa frutta ci sono differenti prezzi La vendono in base alla qualità Appallata Le prime banane sono da 30 E le altre sto da 20 Banane da 20 e da 30 Un gire veloce nel mercato Mamma mia Ci sto capendo Le arancioni da 80 40 35 E vabbè E vabbè È finito il mercato Molto caratteristico però Grazie a tutti Grazie a tutti